Pizzarotti, hai pentito di non aver difeso in passato gli espulsi dal Movimento 5 Stelle? Io penso di essere stato uno di quelli che ha sempre dato la propria solidarietà alle persone. Ovviamente di più quando le persone si conoscono direttamente per l'azione svolta, per vicinanza territoriale, magari meno, dove non si conoscono direttamente, quindi non voglio dare giudizi affrettati. Sicuramente quello che ho detto non è tanto sul fatto che le espulsioni non siano necessarie, perché ci può essere la possibilità e la necessità di espellere delle persone, non è questo che metto in discussione, quanto il rispetto delle regole. Questo penso che sia una necessità in primis da parte nostra, che quando chiediamo a tutti di rispettare le regole, noi dobbiamo essere i primi a farlo. E alcuni passaggi, specialmente nelle ultime espulsioni, io penso che siano mancati. Quindi la richiesta ieri, oltre a un incontro collegiale con quello che decideranno siano tutti gli eletti d'Italia, quello che vorranno fare per rimettere al centro veramente le idee e le proposte, sia anche quello di rivalutare alcune di queste espulsioni, perché le persone non possono essere abbandonate e una volta espulse non siano persone degne di nota rispetto al loro lavoro o persone in quanto tali. Il mondo è fatto di persone, non è fatto di schieramenti, appartenenze, loghi o spille, ma è fatto di persone e su questo dovremmo entrare nel merito. Chi è capace e chi non è capace, chi vale e chi non vale. Pizzarotti, lei chiede di annullare le espulsioni, ma perché annullare una scelta degli iscritti che hanno votato online sul blog di Grillo? Ma innanzitutto io non chiedo di annullare, chiedo di rivalutare queste espulsioni, perché a mio avviso anche semplicemente leggendo il regolamento ci sono stati dei passaggi che sono stati forzati, poi il fatto di riammettere o non riammettere gli espulsi può essere fatto assolutamente attraverso il blog, attraverso una votazione online e quindi questo renderebbe, come dire, dello stesso valore anche la riammissione. Lei è a favore, come Grillo, dell'uscita dall'euro, visto che il Movimento 5 Stelle intende adesso promuovere un referendum. L'apporto da Parma sullo scacchiere europeo e nazionale, ma molto importante. Il tema dell'uscita dall'euro non l'ho mai approfondito. Io ho sempre detto che non voglio fare il tuttologo e quindi parlare del gelato al pistacchio più buono del puffo, se, come dire, quantomeno non ho guardato gli ingredienti. Quindi temi macroeconomici ben volentieri farete una serata di approfondimento tra economi che potremmo illustrarci se vale la pena o non vale la pena. Su questo è un tema che secondo me va illustrato bene nel momento in cui si inizieranno a raccogliere le firme, ma su quello non penso di poter aggiungere e non togliere niente. Che non sia invece il fatto che c'è bisogno di un'economia diversa a partire dai comuni. Il debito di Parma è in euro, quindi... Ma anche se fosse in Liro o in Dracme sarebbe un problema comunque e quindi noi lo affronteremo con le possibilità che abbiamo da piccoli amministratori che però guardano veramente molto in là, a partire dalla propria città che pensiamo possa essere un punto di ripartenza importante per l'Italia e per l'Europa. Pizzarotti, ultimissima domanda, risposta telegrafica. Secondo alcuni suoi colleghi ci sono molte perplessità sulla trasparenza del blog di Grillo. Lei cosa ne pensa? Ma non so su quale punti dicano che non c'è trasparenza, quindi è difficile dare un giudizio su una domanda improvvisata adesso. Quello che posso dire, che mi sembra una risposta anche attinente rispetto a quello che stiamo facendo, proprio nel Comune di Parma abbiamo aggiunto una nuova sezione che si chiama Porte aperte in Comune per pubblicare tutto quello che le altre amministrazioni in tutta Italia non hanno mai pubblicato. Quindi invito tutti a vederlo e chissà che non sia di ispirazione per tutti quelli che... ci criticano in generale.